Concessionari all'auto, a Montagna in Valtellina e a Delebio. Il Sondrio rimane, primo in classifica, con 48 punti. 45 punti. 31 Cosio Valtellino e Olympic Morbegno, 29 Besana Fortitudo, 28 Grosio, 27 Olimpia Grenta, 22 Vedugio, 20 Cornatese, 18 Dubino, 14 Civate e 13 Mandello. Seconda categoria, sesta di ritorno, Val Chiavenna, Alto Lario 1-0, Cortenova, Ardenno Buglio 4-0, Al Bosaggia Ponchiera, Bellagina 2-1, Nuova Abrianza Sportiva Bormiese 0-0, Victoria Dongo 0-0, Chiavennese Talamonese 2-3, Pontese, Tiranese, 1-0, Cortenova con 38 punti prima in classifica, 35 Chiavennese, 30 Bormiese, 27 Talamonese, 25 Altolario e Victoria, 23 Tiranese, Pontese, Al Bosaggia Ponchiera, 20 Bellagina, 18 Val Chiavenna, 17 Dongo e Ardenno Buglio e 12 Nuova Abrianza Sportiva. Infine la quarta giornata di ritorno per la terza categoria, Piantedo, Penta Piateda 6-3, Delebio, Prata Calcio 2-0, Berbenno, Sondriese 0-2, Polisportiva Villa, Valmasino 3-0. Rinviata invece la partita tra Sondalo e Valmalenco. In classifica Valmalenco in prima posizione 23 punti, 22 Penta Piateda, 20 Piantedo, 19 Delebio, 16 Valmasino, 13 Polisportiva Villa, 10 Livigno e Prata Calcio, 7 Sondalo, 6 Sondriese. Ricordiamo che il Berbenno gioca fuori classifica.